Allora che vogliamo fare? Fumiamo? Ma quale pomane? Facciamoci una partita a carta Mitra era il Dio del Bene Mitra, il Dio del Bene Hai finito? Ehi, calma, calma Non vuole profondire nessuno Attacco al formato chiuso Voglio il formato chiuso è anche il problema Puoi essere di sicuro, non puoi essere... E tu? Io sì, senza puoi essere Ma la palla di tecniche è tutta e due La prima che mi so se faccio scegliere io Ragazzi, una gran battuta si può fare, oh Mi devo stare là dentro Sei cretino Sono cretino